Dalle rapine sul videogioco a quella vera, il salto dalla finzione alla realtà è stato molto breve per uno dei sei componenti, il cui soprannome era appunto Game Player, della banda che i carabinieri hanno assicurato alla giustizia con l'operazione Game Over dopo sei mesi di faticose indagini. Il 3 marzo scorso il gruppo compie una rapina a mano armata nell'ufficio postale di Pieve di Cagne dove utilizzano una 1 bianca per darsi alla fuga ritrovata poi abbandonata dai carabinieri assieme ad un cappellino ed un paio di occhiali utilizzati per la rapina. E' da questi scarni elementi che parte tutta l'indagine dei militari per individuare i sei responsabili, quattro uomini esecutori materiali della rapina e due donne con ruoli marginali. Da lì sono partiti degli accertamenti che dall'intestatario dell'autovettura che aveva patito il furto alcuni giorni precedenti e grazie anche alle attività investigative poste in essere dalle stazioni carabinieri di Sant'Angelo, Invado e Urbania abbiamo individuato una stretta cerchia di soggetti che poi insomma da andando a stringere abbiamo trovato implicati a vario titolo appunto nella consumazione di questo efferrato delitto. Un bottino magro di 560 euro se pensiamo che comunque la cassaforte dell'ufficio postale deteneva valori ben più alti poiché in quella giornata venivano pagate le pensioni ed era probabilmente il motivo per il quale i soggetti avevano deciso di attaccare quell'ufficio postale in quel giorno e quella determinata ora. Diciamo a salvare l'ufficio postale da un danno patrimoniale certamente più grave è stata la procedura temporizzata di apertura della cassaforte che dura circa 15 minuti. Tempi e modi sbagliati fanno quindi pensare a una banda un po' improvvisata e messa su per l'occasione ma questo non attenua la pericolosità sociale dei componenti in sodalizio che erano già ben conosciuti per atteggiamenti aggressivi dalle forze dell'ordine. Erano ben conosciuti nel territorio, imperversavano tra Sant'Angelo Invado ed Urbania ponendo in essere una serie di comportamenti che destavano particolare allarme sociale. Erano conosciuti anche alcuni per gli alias che abbiamo fornito nel corso della conferenza e sicuramente possiamo dire che questa esecuzione in qualche modo può tranquillizzare la comunità locale nell'aver assicurato almeno ai successivi accertamenti che la giustizia vorrà fare adesso questi sei soggetti. Grazie. 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 Grazie.